Entro marzo del 2008 l'esercito statunitense si ritira dall'Iraq, loro si ritirano dall'Iraq, noi andiamo in Afghanistan, siamo sempre in leggera controtendenza, non abbiamo gli occhi per piangere, spendiamo un milione di euro all'ora per fare una guerra che non è nostra, andare là, fare i pacifisti guerriglieri finti. Ma dove dobbiamo andare noi? Noi siamo italiani, noi siamo brava gente, ci hanno fatto dei fii, siamo buoni, non siamo abituati a fare i guerrieri, a far esplodere la gente, non ce la facciamo. Noi abbiamo fatto la prima guerra mondiale, eravamo nelle trincee e ci sparavano i nostri comandanti perché non uscivamo fuori. Noi nella seconda guerra mondiale non ci ha capito un cazzo che non solo l'abbiamo vinta, persa, pareggiata, poi rivinta e poi riperta. Siamo andati in Abissinia, cantavamo, perché noi siamo sempre mossi per la figa e la mamma, in Abissinia, in Abissinia cantavamo faccetta nera, in Abissinia, in Russia la ritirata, i soldati cantavano mamma, c'erano i tedeschi, ma ci stanno prendendo per il culo dei soldati friulani così, che cantano mamma, siamo quelli noi.